Siamo fuori qua, siamo fuori qua con il letto e ti parlo che, che ha poi che c'è poi volo l'ore. Voi dove sei contato con il l'ore, te hanno così contato con il l'ore. Voi dove sei contato con il l'ore, te hanno così contato con il l'ore. Vida e l'ombra, vida e l'ombra, vida e l'ombra, vida e l'ombra. Vida e l'ombra, vida e l'ombra, vida e l'ombra, vida e l'ombra. Vida e l'ombra, vida e l'ombra, vida e l'ombra. Buongiorno a tutti i nostri spettatori